buongiorno a tutti allora magliettina di pagliuca perché c'è una bella letterina del gruppo nero azzurro occhi nero azzurro il nostro gruppo di che seguo quello che mi dà anche gli spunti per calciomercato e quant'altro che qualche giorno fa aveva scritto una bella lettera io l'avevo fatto copia in colla perché dico è una lettera molto interessante ne parlerò sicuramente c'è questa e poi c'era una dichiarazione di Biasin che mi era piaciuta particolarmente ve la leggerò nei prossimi giorni invece sono sempre cose un attimino di qua ma sono sempre valide andiamo a vedere questa lettera allora conte nostro allenatore non il lasciamo perdere le questioni politiche parliamo di calcio quindi Antonio Conte fino a settembre non si poteva criticare ha portato una squadra al secondo posto con un punto di distacco dopo anni a 20 punti ha portato una squadra in una finale europea dopo dieci anni ma di cosa parlavano i criticoni un progetto che nacque su di lui con un importante investimento della proprietà sull'in per arrivare in pochi anni ai vertici del calcio europeo e mondiale magari potevamo eccepire su qualche scelta tattica o di certi giocatori sul suo carattere sui suoi atteggiamenti su certe uscite in conferenza stampa e fin lì siamo tutti d'accordo ma sui risultati no e nemmeno sul suo rapporto con lo spogliatoio perché tutti lo seguivano avevano fiducia in lui nel suo progetto tecnico tattico ma i criticoni imperversavano noi in occhi nerazzurri come dicevo il gruppo di facebook che io seguo ormai da quasi due anni abbiamo sempre difeso questo progetto perché il dovere del vero tifoso interista è quello di appoggiare la società e i suoi tesserati nelle nuove avventure altri tifosi invece no non gli bastava solo sputare sui 600 milioni investiti dagli zang ma hanno osteggiato subito marotta e conte per i loro trascorsi chiaro che pure noi avremmo preferito il nuovo murigno ma abbiamo anche considerato che sono due professionisti che hanno sposato il progetto di una società ambiziosa e abbiamo avuto fiducia nella scelta della proprietà nel caso di marotta poi è ridicolo etichettarlo come juventino uno che in 42 anni di carriera la juve c'è stato per otto anni meno di un quinto del tempo questi sarebbero gli stessi personaggi che vorrebbero allegri che oltre che juventino è milanista ed è uno che a differenza di conte di mischerate sull'inter ne ha dette molte pure troppe per i miei gusti scrive appunto il responsabile di rocchi nerazzurri ma con la coerenza in certe persone cosa sconosciuta però hanno trovato il modo di frequentare i gruppi interisti che fanno dell'odio il loro cavallo di battaglia contro a priori come gli asini che vanno in una direzione con il paraocchi non conoscono altre ragioni in quei gruppi hanno trovato i guru gente per lo più fallita nella vita il capo che li guiderà verso le proprie convinzioni comuni salvo accorgersi al primo sgarro che verranno sbeffeggiati insultati persino minacciati e infine espulsi dal gruppo cosa già successa anche ad alcuni appartenenti al nostro gruppo guai andare contro le idee del capo del grande capo dei capo se le pecorelle useranno tanto andranno al macello per volere del maiale accompagnate dai cani del maiale della più classica visione orvegliana degli esseri umani i cani sono stati allontanati dal gruppo altri sono tornati a servire il capo le pecorelle smarrite si sono fatte purtroppo influenzare in maniera negativa la pazienza però è finita in occhi nerazzurri tutti siamo liberi di esprimere il nostro pensiero il fatto che una parte cospicua non remasse contro società e mister e rispose per le libere le loro puttanate ha scatenato nei loro fragili cervelli la convinzione che invece qui ci sia il terzo reich andranno a sviolinare il maiale autosuggestionati dalla chimera che lì dentro possono trovare la più alta espressione del pensiero libero e democratico leccare le palle dei maiali poverino che pena mi fai tanto per citare il verso di una canzone degli anni 70 buona fortuna ma torniamo a conte siccome qui siamo persone serie presumo intelligenti nessuno ha le fette di salame sugli occhi per non vedere che da un po di partite le cose sono cambiate in peggio e con conte che è il primo responsabile di una situazione che sta diventando inaccettabile parlavo di intelligenza la critica va usata in modo intelligente e nei tempi opportuni non quando le cose vanno bene ma quando vanno male ma il clan del partito preso alla propria mente offuscata dalla propria arroganza e presunzione non riesce ad adattarsi a nuove situazioni il mass nella misura del cui ma percorrono cento volte lo stesso sentiero sperando li conduca alla verità alla soluzione dei problemi invece perversano fino alla pazzia non c'è gente normale in certi gruppi credetemi ora no ora purtroppo i fatti i risultati le situazioni ci fanno capire che in questa seconda stagione nella fattispecie nelle ultime due partite è accaduto qualcosa di strano di negativo qualcosa verosimilmente frutta anche di certe scelte di chi ha in mano la guida tecnica molti di voi mi hanno contattato esponendo le proprie teorie e convinzioni in modo arguto e interessante avanzando le loro ragioni non con i soliti gobbi di m352 conte out le solite negie che esprimono solo disagio mentale proviamo a capire a indovinare a supporre insieme cos'è accaduto in poco tempo per portarci ad una situazione talmente involuta da essere inimmaginabile solo due mesi fa non è facile ma ci proviamo io vi dico la mia credo non ci sia più armonia nello spogliatoio me lo fanno pensare le parole di lucacco di pochi giorni fa me lo fa pensare un'aria diversa che si respira conte non ha più la voglia di prima telecomandava i giocatori in campo ora sta in panchina e lo senti molto di meno con uno sguardo fisso nel luogo di chi non sa cosa fare probabilmente i giocatori hanno perso la fiducia in questo progetto tattico attenzione la panacea nei mani non è lo schema 4 4 2 anziché il 352 ma le variabili di gioco l'attitudine dei giocatori la psicologia la fiducia che ha avuto a che fare con il calcio giocate non con quello chiacchierato sui social sa bene che i fattori che stanno in concomitanza decidono del destino di una squadra lo schema è uno dei fattori ma ci vogliono interpreti adeguati illudersi che giochi a 4 dietro risolvi il problema è sbagliato magari lo peggiori l'elasticità mentale di conte la bravura nel dover intervenire con il gioco in corso quando le cose non vanno bene è un altro aspetto questo lo sapevamo era un limite dell'attuale allenatore vi ho buttato degli spunti sicuramente avrete altre cose interessanti da aggiungere cambio allenatore il ritorno di spalletti sarebbe deleterio si sono lasciati male con la società lo escluderei allegri già detto no costi e antinterismo conte fino a giugno probabili ma rischi di sputtanare la stagione se devi cambiare lo devi fare ora io lo farei solo con cambiasso che ha di maniera azzurra e costa poco ed è bravo io credo a voi gli approfondimenti certo questa lettera era antecedente alle partite che abbiamo giocato ultimamente era una lettera di circa un mese fa quando ci sono state determinate situazioni c'è stata la uscita l'uscita dalla champion c'è stata la sconfitta con la sandoria qualche pareggino di troppo eccetera 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 adesso la squadra sembra essersi un attimino rimessa in sesto il pareggio con l'udinese ripeto ci sta perché oggi ho appena visto genoa cagliari ma soprattutto c'è un verona che ha rifilato tre pappine al napoli e quindi le partite in serie a non è che tac devi vincere sempre non è così semplice noi a verona abbiamo vinto con fatica ma abbiamo vinto il napoli ha preso tre pappine il napoli è vero che è in evoluzione contraria è vero che probabilmente hanno risentito della scopola presa con la juve dell'errore di insigne che nessuno si aspettava all'errore di insigne sul calcio di rigore è vero che magari erano anche stanchi dopo 120 minuti di battaglia con la juve che hanno giocato mercoledì in supercoppa però comunque tre pappine dal verona non te le aspettavi quindi ragazzoli io l'unica cosa che vedo è che le critiche continuano continuo a sentire che lautaro è scarso che quell'altro oggi un ragazzo mi ha scritto al andecento grazie al cazzo anche maradona era cento volte meglio di di mateus per dire era dieci volte meglio però mi ha vinto lo scudetto anche con mateus che era tanta roba però diego era era il numero uno ma giocava nel napoli non lo potevi prendere ti devi accontentare cioè ci sono tanti es giocatori che continuano a dire che abbiamo la una delle coppie di attaccanti più forti del d'italia e in parte anche d'europa e continuiamo a criticarli continuiamo a criticarli cioè lautaro e lucacus si trovano da dio stanno bene vanno d'accordo si intercambia adesso sentivo ma doveva passargli la palla allora sull'azione del dell'errore della dell'udinese che lautaro ha tirato in porta ha preso in pieno la la porta l'ha presa in pieno busso gli ha fatto un paratone ha detto da passarla a lucacus lucacus ne aveva due addosso perché la difesa erano hanno sbagliato ma erano in tre già in difesa quindi se lui gli passa la palla probabilmente quel passaggio l'avrebbe intercettato uno dei due difensori non era così semplice passargli la palla poi sei in area un giocatore un attaccante in area da solo eccetera tira se avesse tirato fuori mi sarei incazzato anch'io come una iena ma non è tirato forte deciso verso l'angolo eccetera se busso fa un miracolo è bravo busso complimenti a busso cioè non è che ha sbagliato a tirare molti dicono è sbagliato il gol no ha fatto una parata della miseria ci sono anche i portieri purtroppo che poi dopo con noi fanno i miracoli è vero ma lo fanno anche spesso con le altre squadre solo che le altre squadre il gol lo segnano lo stesso qualcuno ha fatto dotare no perché stavo leggendo di un ragazzo che ha fatto l'elenco delle occasioni che ha avuto l'inter qualcuno gli ha detto ma conta segnare i tiri fuori non consigli ma tu devi vedere le occasioni se i nostri sbagliano siamo d'accordo però io continuo a sentire abbiamo giocato da cani abbiamo fatto cagare abbiamo fatto schifo crei 11 occasioni da gol e hai fatto cagare cazzo ma l'inter di mancini che si trovava un po come il milan adesso per caso al primo posto che vincevamo 1 a 0 a culo con andano vi scheparava anche la mamma aveva un gioco di merda facevamo tre tiri in porta un gol gli altri ne facevano 25 c'era andano vi scheparava tutto invece grande inter grande mancini che squadra cinica adesso siccome non siamo cinici per un cazzo però si gioca bene si crea sempre anche giocando male l'inter crea sempre occasioni da gol anche giocando male però devono criticare perché c'è conte se andiamo a prendere walter zenga e facciamo su 38 partite 10 sconfitte 20 vittorie 8 pareggi però c'è zenga siamo arrivati settimi ma c'è zenga che bello non c'è quella merda di juventino di merda che ci faceva arrivare minimo secondi meglio avere zenga che ci fa arrivare settimi però è interista perché questa è la mentalità oppure vogliono allegri che quando sento allegri non vogliono non vogliono conte perché è giuventino vogliono allegri che ci ha preso per il culo quando era al milan per il culo quando era la juve allenato sia juve che milan però allegri va bene al posto di conte c'è io vorrei sentire uno che rischia che mi dice prendiamo nagelsmann prendiamo l'allenatore del real sociedad che sta giocando veramente bene in in liga spagnola e fa giocare bene la squadra prendiamo un nagelsmann che fa giocare è un rischio però quando un bayern monaco ti prende a un flick che gli fa fare il triplete questa è la dimostrazione che gli allenatori contano fino a un certo punto l'allenatore deve avere l'intelligenza di vedere che squadra in mano e farla giocare facendo in modo che i migliori giocatori giocano al meglio nella posizione migliore per loro se tu già hai già un'ottima squadra che ti segue c'è basta io lo continuo a dire gli allenatori si cambiano solo se non hanno più in mano la squadra per ora mi sembra che conte sia seguito bene dalla squadra sta cercando di recuperare Ergsen sta piano piano recuperando altri giocatori io credo che Vessino potrà diventare un giocatore importante se torna ad andare d'accordo con l'allenatore perché Vessino ci ha tirato fuori tante volte le castagne dal fuoco ha segnato sempre spesso e volentieri i gol importanti poi magari se ne sbagliava nelle partite che non contavano nulla con le medio piccole ha sbagliato una caterva di gol che ne abbiamo pareggiati anche per colpa sua ma quando arrivava che doveva segnare il gol importante segnato nel derby ha segnato con la Lazio ha segnato col Tottenham ha segnato gol pesantissimi come D'Ambrosio come tanti altri adesso domani martedì c'è il derby ho già sentito che giocheranno Sanchez Sensi e Darmian dalla parte di Young io non sono d'accordo di Darmian dalla parte di Young perché se perdi Darmian dopo non hai costringi a Chimi a giocarne tutte 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 e non hai il sostituto per dargli un po' di fiato quando magari sei al settantesimo eccetera venti minuti di però capisco che Young e Perisic in due non ne fanno una e Darmian magari ti dà quel qualcosina in più Sensi a centrocampo non lo so perché con il Milan è le dura anche perché loro sono molto muscolari io avrei tenuto la formazione Brozovic Vidal eccetera e Sensi lo buttava dentro dopo però pare che voglia fare così e Sanchez però mi devi fare la seconda punta non mi stai dietro perché se no giochiamo con un 3 4 1 1 anzi si 3 5 1 1 perché lui è sempre dietro e lascia Lukaku sempre tra i difensori che poi fa fatica lui deve stare avanti e portargli via l'uomo invece continua a fare il raccordo per il centrocampo eccetera e se non si inseriscono i giocatori è dura però avendo sensi magari vedremo vedremo ragazzoli fatemi sapere cosa ne pensate di quello che hanno detto i ragazzi di Occhinerazzurri sono andati giù col taglierino però ambasciatore come si diceva una volta ambasciatore non porta pena io vi ho detto il loro pensiero vi ho dato il mio pensiero io mi auguro che Lukaku io ve lo continuo a dire mi auguro che Lukaku e Lautaro siano la coppia di attaccanti per i prossimi 5 anni a meno che signori non ti porti a casa un Joao Félix o un Haaland o un giocatore di quel livello al posto di uno dei due teoricamente di Lautaro perché è quello che teoricamente ci pagano di più però devi andare a prenderne uno così uno di quel livello lì non puoi andare a prendere un un Petagna qualsiasi o un Bilic qualsiasi devi andare sul livello alto così come con gli allenatori volete cambiare Conte ce ne sono due Klopp e un ritorno di Mourinho perché francamente il gioco di Guardiola a me fa venire dai punto non c'è bisogno di aggiungere altro detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo dopo che farò il riepilogo della giornata di campionato che adesso ho da andare a scrivere per Interlive Ciao